Ogni piano di esistenza La civiltà dello spirito attraverso Pietro Ubaldi Ogni piano di esistenza ha le sue leggi e da uno inferiore non si può comprendere e giudicare quello superiore, mentre dai piani più alti e più bassi vengono compresi e giudicati feroci e selvaggi. Abbiamo così una serie di livelli evolutivi di cui ognuno ha una sua verità relativa che con essi evolve sempre più in alto. Piani dunque e verità in evoluzione. Tale è il movimento delle forme del concepibile nel relativo per ascendere sempre più avvicinandosi all'assoluto. Il più può comprendere e giudicare il meno, ma non viceversa. Su tutti i piani impera la legge unica dagli infiniti aspetti di verità, relativa ciascuna ad un dato grado di sviluppo fase evolutiva in continua trasformazione progressiva. Tutti i mezzi vi sono adoperati sempre in proporzione alla natura dell'essere. Il metodo della selezione del più forte non rappresenta che un caso, un grado, una legge, una verità relativa. Poi la fase si supera e si passa ad un ordine di formazioni e acquisizioni diverse, con altri metodi più evoluti, di diverso carattere, proporzionati ad un diverso tipo di vita. Gli esperimenti sono i più disparati. La natura non ha limiti di mezzi e di ambienti. L'acquisizione di qualità nello sviluppo della coscienza deve essere infinitamente molteplice.